Buonasera inizierei col chiederle di parlarci dei suoi genitori mia mia madre purtroppo è morta quando quando ero giovane mio padre non l'ho mai conosciuto purtroppo mia madre è morta in circostanze traumatiche e non lo so non ho molto piacere a parlarne in realtà beh allora ci parli della sua istruzione di chi l'ha cresciuta di chi l'ha educata io io ho frequentato un collegio un collegio molto rinomato ma poi sa ci sono state alcune circostanze che mi hanno costretto a rinunciare vede io ho avuto dei gravi problemi di depressione e a un certo punto ho pensato di insomma poi sono rimasta incinta e quindi ho dovuto rinunciare fortunatamente ora la mia zia si prende cura di me sì beh allora ci parli di una cosa bella il posto più bello che ha mai visto vede io in realtà non non viaggio molto la mia casa è molto grande molto accogliente e quindi penso che sia il posto migliore che che qualcuno possa desiderare la propria casa sì sì viaggio molto con la fantasia bene grazie davvero grazie bellissimo grazie grazie davvero